Raga 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 Oh no Raga 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 Non si vedrà Non si vedrà però E' successo il parolone Non so quante potere usciranno Oh mio Questa non è della serie D'oro per fare Raga 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 E' ancora Sta zitto Un attimo E' una telecamera Ecco Avete gusti Woody Non è così nel film Non è veramente così Solo che Ha forse un anno E' ha paura Quindi Dobbiamo sconfiggerlo Dobbiamo sconfiggerlo E poi Udilo tornando Non è normale Non possiamo sconfiggerlo Prenderemo Prenderemo Tutti i controlli Della base Prenderemo 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 Noi non sappiamo nessuna base, infatti ma quella base non l'ha conosciuta, oh mio Dio, che base? Quella là devo conquistarla, non può conquistare una base signore, noi non vogliamo farla male, ok, comunque conquistarla ma è una cosa da cattivare. Io sono pettiglia, vuoi parte di Romeo e di Pichamato? No, quello è il mio padre, è il tuo padre, è il suo padre, avete capito? Raga avete capito? Ha detto il suo padre, ma come fa ad essere il suo padre? Non ha registrato lui, ma... Raga, mi spiegate come fa ad essere il suo padre? Romeo, per Dio, dile proprio, è che Romeo... Raga, non è preso proprio, da qua, aiuta raga, sto volando! Aia, scusate, quanto volate? Siete sempre a tempi? Echè, non lo so, ah! Uuu, ooh, ooh... Tu credetemi! Uuu, ooh... Aia! Mi ha fatto male! Ah Dio, mi ha fatto, ma a che tavolo! Ma questa che è la camera, un micone? Dove la cara? Mi ha fatto male, ahiai, ahiai, ahiai.. Ok, oggi è la vostra famiglia, vai là, fai quello che vuoi, e basta. Eeeh, non possiamo stare qua, metà notte arrivo, e stiamo ancora a farla, io voglio dormire. Non mi aiutare, vado in un'altra azienda. Vediamo che stiamo bene. Pronto, 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 pronto. Sì, vado, vado, non puoi conquistare l'azienda. E che cavolo ci fai, tu non puoi stare nello yacht. Noi abbiamo finito. La mamma mia non funziona mai, che cavolo. Non puoi veramente diventare un babbudo. Devo dire, che cavolo faceva la mamma mia? Perché non, non devo dire, non funziona, tu non sei un mago. Ma nella signora sorvegliante. Fate francese, francese, io non so niente di francese. Sono tutto francese, matematica, sono tutto matematica. Perché non so niente di francese, non so niente di francese. Sono tutto. Bravo, bravo. Ma non, matematica. Sono tutto. Ok, ok. Signor Alessandro. Ma che cavolo devo andare. Già una lista al presidente. Senti, è uno scherzo. Signor Alessandro è un accidente? Cos'è? Ma signor Alessandro è un accidente? Non so cosa ho fatto, se... Ehm... C'è matematica? Beh, è una br... È una brutta cosa. Perché? Dove sapere il francese. Signor Presidente, non so niente di francese. Ok. Ok. Ah. Ah, ciao, francese. Sono tutto, non lo vuole. Ok. Ci vedremo. Ehm... Non mi viene niente. Io non so niente. Tu sai qualcosa. Non si è bella a scuola. Vado a dare al presidente. Vai al presidente. Presidente. Ma cosa ho fatto lei? Ho ballato a scuola. Non si è bella a scuola. È la prima regola. La metto in punizione. Perché? Perché ho ballato a scuola. Mi metto in punizione. E con quale canzone? Di insieme. Ok, io non la metto in punizione. Oh, è fattuto. Ma chi è il signore? Sì, buongiorno. Buongiorno. Bravi, bravi. Ehm... Che anni come si dice in francese? Ehm... Inglese. Che anni come si dice in inglese? Che facciamo inglese. Lo so io, lo so io. Lo so io, lo so io. Lo so io. Lo so io, lo so io. Come si dice? Gatto nero? Dog. 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 Non è giusto, cane. Ma... Ma cane è... Ma cane è l'italiano. In inglese significa... Dopo come gatto, in inglese è cat. Ehm... Ho com'è già? Sono distruggendo la scuola! Oh no! Scappate! Già padre, ripatter! Vado con cava! Oh no! Prefete! Ti salve, ti salve! Poi spartano la scuola! Oh no! Scherzo dell'anno! Per 2021! Cosa? Cioè... E noi tutti ci siamo riduti! Io non l'avevo capito. Ma perché abbiamo detto a te? Oh... Tutti ci siamo riduti! Oddio! E mi vedi già? Una calza della padella. Ehm... 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 Ho pescato questo... Ehm... 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 Sì, vediamo un gattare, lupo arvato, lupo arvato, lupo arvato, lupo arvato, lupo arvato, lupo arvato. Ma hai fatto? Che dove dovrò durare la membrana? Che dico? Io l'ho già detto. Vabbè, me la mancio. Alla salute. Sto mangiando una cosa malla da mezz'ora. Bello, bello. Ma qua c'è un cantino. Visto? Buon cibo. Bello, bello. Sto ufficiale brand. Questa calzone che te la metterai io... Vabbè, manno. Ok, andiamo dentro. E... Mi asce. Addio. Che non ho video. Ho portato un video, ho portato due video. Che dovevano uscire. Aspetta poi, non uscire da male. Perché lo faccio oggi, però è uscire da male. Quindi, sono tre video. Lo faccio. Perché non sono infortunato. Forse, non cerco a trovare, quello che cazzo lì. Monster... No. Buono, so. Però si chiamano. Lo sapete? No. Non si chiamano, cavolo. Vabbè. Lo sapete quello in là? Che l'anno scorso sono uscita da Halloween. Che si allungavano. E... Avete visto il stesso sfere? Sai quello in là, eh? Che il sfere ha trovato quello raro? Eh. E quello là voglio. Però non riesco... A trovarlo. Comunque, andate... A vedere. Da pursera. Mi raccomando. E poi, iscrivetevi. Facete una campionina. E... Ehm... Non so. Non mi spurgo a me. Che allora. Vabbè, non so che non chiudere. Non so... Non do chiudere. Perché chiudere. Lo so. Buon. Allora, lo so posto. E qui va. Ora, va. Espe. Mi metto dentro. Mi metto dentro. Mi metto dentro. Mi metto dentro. Mi raccomando, ragazzi. Tendono le cose. Chi vuoi. Che lavoro è giudicato. Che vuoi. Che non mi piove. Che brutto. Che... Che camolo. Che... 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 Che...